C'è un'internazionale convento o progetto di convenzione come la CBD sui problemi del prodotto di alimentazione e del prodotto di alimentazione? Sì, il prodotto di alimentazione e del prodotto di alimentazione sono dei problemi sui problemi dell'internazionale. Abbiamo l'expo di Milano. Questi sono due problemi sui problemi dell'internazionale, ma anche la prodotto di alimentazione. Con prodotto di alimentazione, prodotto di alimentazione e perdita di alimentazione, abbiamo tre grandi aspetti di alimentazione e di sicurezza di alimentazione. in questo anno, in questa Expo 2015. E spero che questi ragazzi e studenti sanno rifletteremo su questi problemi. Credo che la convenzione della biodiversità potrebbe ridurre i problemi del prodotto di alimentazione e del prodotto di alimentazione sul nostro pianeta? Sì, il prodotto di alimentazione e del prodotto di alimentazione sono una problematica complessa. Credo che ogni paese ha una parte di fare e di agire. a livello di alimentazione e al livello di coordinazione le convenzioni sono supporti, le supporti legale ma ogni paese ha molto a fare internazionale e anche la domenica legislazione sarà un'importante problema per lavorare nei prossimi anni per combattere la città di alimentazione e la città di alimentazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.